Il tema della sostenibilità nelle multiutility penso che sia una cosa che fa parte della natura delle multiutility Quindi penso che sia indispensabile per una multiutility come il gruppo ERA avere nel core business e nella propria mission il tema della sostenibilità È un lavoro che va avanti da anni, è un lavoro che però si evolve in questi anni e quindi abbiamo raggiunto mi sembra adesso degli obiettivi molto importanti Degli obiettivi molto importanti che noi chiamiamo nella creazione del valore condiviso E penso che questo sia inserire la creazione del valore condiviso all'interno del piano industriale sia un punto di eccellenza per quanto riguarda il tema delle multiutility Per quanto riguarda il tema del balance scorecard è interessante perché nel gruppo ERA già da alcuni anni il tema della sostenibilità fa parte del sistema premiante Sia dei quadri che dei dirigenti del gruppo e questo sistema ha portato a far sì che oggi la maggior parte del sistema premiale Da parte dei nostri quadri, dei dirigenti del nostro gruppo sia creato attraverso il valore che il balance scorecard può portare Quindi penso che sia un valore assoluto che formi davvero un valore reale tra quello che pensa il management, quello che agisce nel lavoro concreto di tutti i giorni E infine quello che poi fa parte anche del tema della governance e quindi cerchiamo di tenere insieme tutto dall'inizio alla fine